Auto abbandonate, discariche abusive, ma anche conferimento dei rifiuti fuori dagli orari previsti o senza differenziarli correttamente. Sono questi gli illeciti ambientali scoperti nell'attività di controllo e repressione da parte del nucleo ambientale del comune di Sassari. In solo due settimane sono state decine gli interventi degli agenti e della polizia locale, coordinati dal comandante Gianni Serra, dei barraccelli e del settore ambiente che con Ambiente Italia collabora all'individuazione e alla segnalazione delle zone dove più frequentemente agiscono gli incivili. Dal 1 al 15 dicembre sono stati scoperti e sanzionati numerosi cittadini e aziende che avevano violato l'ordinanza sindacale in tema di conferimento dei rifiuti e la normativa nazionale. Il nucleo di controllo lavora spesso in borghese, le indagini frequentemente partono da segnalazioni di persone sempre meno disposte a tollerare le inciviltà di alcuni concittadini o dalle riprese alle videocamere nascoste. Grazie a elementi lasciati tra rifiuti come documenti e corrispondenza, la polizia locale è riuscita ad arrivare responsabile e a sanzionarli. Gli illeciti più frequenti riguardano l'abbandono dei rifiuti sia in periferia sia al centro storico e la mancata differenziazione dei rifiuti in questi 15 giorni sono stati inoltre rimossi numerosi veicoli abbandonati in tutto il territorio comunale.